un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video questa volta siamo su arston per la precisione con un deck fatto da me per battere il re dei lich ci ho provato per 2 3 giorni a batterlo con tutti i deck possibili immaginabili trovati sul web alla fine ho deciso di farne uno io perché non ci riuscivo e con il mio deck ci sono riuscito al primo colpo semplicemente mettendoci dentro un quantitativo in mane di servitori ovviamente il deck lo trovate qui a fianco e trovate anche il codice giù in descrizione avevo inserito anche nel deck il vate della rovina per quando si arriva a 7 di mana che viene evocata la sua arma e tutti i servitori che dovranno essere eliminati il più in fretta possibile però in questo tentativo in questo primo tentativo che ho fatto dove ci sono anche riuscito non lo avevo in mano in quel momento quindi praticamente forse poteva anche andare meglio in ogni caso se vi piace questo gioco lo continuo a portare sul canale anche perché quasi sicuramente lo porterò lasciate un bel like e in oltre vi ricordo che sono quasi tutti i giorni praticamente pomeriggio e anche la sera in live su twitch sia con arston che con il poker che anche con altri giochi quindi se volete passatemi a trovare il nome del canale twitch e snow kills ma lo trovate anche linkato sempre giù in descrizione non mi pare sia rimasto altro da dire quindi godetevi il resto del video fatemi sapere che cosa ne pensate io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video come hai fatto a mettere nel tuo mazzo certe carte senza provare vergogna la più grande di ritmo è la pazienza che cos'è la realtà la fretta ma la fretta non ho tempo per giocare Dopo tutto ciò che mi hai fatto passare, l'ultima cosa che ho intenzione di donarti è la pace eterna. Finito. 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 Cielità anima. Ha fame. Taz dingo! Scusate! La fretta! Un giro! Un giro! Un giro! Guardate! No! Che nessuno sopravviva! No! 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 Taz dingo! No! 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 Sì, sì, sì. Grazie per la visione! Vedo, c'è tanto più più davanti a me. Ci dovrà sempre essere... ...doltre i delici.